Cari alchemici benvenuti alla terza puntata di Guest The Hit volevo fare i complimenti ai vincitori della scorsa puntata perché il brano era piuttosto complicato ahimè mi è uscito così e l'ispirazione mi ha portato a prendere la melodia e metterla in un ambiente zen ed è uscito un po' complicatina il brano in questione era Giant di Kelvin Harris bene allora la puntata di oggi prevede un brano piuttosto semplice però prima di farvi sentire il brano spiego ancora una volta il gioco per chi si sintonizza adesso allora il gioco consiste nel vi faccio sentire un brano famosissimo rifatto a 4.32 da me può essere un brano recente o passato il primo che nei commenti mi scrive il titolo della canzone ottiene tramite link un mio brano a frequenza volevo precisare che il gioco è valido per le tre piattaforme quindi Instagram, YouTube e Facebook quindi potete scrivermi il titolo della canzone dentro la piattaforma quindi dentro i commenti di YouTube dentro i commenti di Instagram e quelli sulla mia pagina Facebook ok? ok allora il gioco di oggi prevede un brano che è famosissimo conta 2 miliardi di view quindi una cifra incredibile ed è uscito con un film che ha creato molto scalpore più nel mondo femminile che in quello maschile anzi il maschile ne ha preso proprio le distanze sono incluso anch'io quindi non sono riuscito a vedere il film però effettivamente ha avuto un successone allora io parto subito col brano ok? pronti? vai! basta perché è facilissimo questo giro sono sicuro che l'avete indovinato subito infatti penso che non ci siano bisogno degli indizi quindi sono curioso di vedere il vincitore chi è il più veloce inoltre volevo fare un piccolo upgrade di Yes The Hit se avete un brano che vi piacerebbe sentire a 4.32 perché siete affezionati o semplicemente perché vi piacerebbe sentirlo a 4.32 potete propormelo nei commenti oppure addirittura sfidarmi cioè come io sfido voi se avete un orecchio musicale voi potete sfidare me magari linkandomi un brano che per voi è veramente brutto o vi sembra veramente difficile sentirlo a 4.32 in total relax e così insomma almeno pareggiamo un po' le sfide giusto? ok questo è tutto se volete scrivetemi nei commenti i vostri suggerimenti e ci vediamo al prossimo video ciao!